In questa edizione del DNews, 10 persone sono state arrestate dai carabinieri di Catania per corruzione aggravata dal metodo mafioso nell'ambito di un'inchiesta su rapporti tra ex amministratori del Comune di Mascali, imprenditori e referenti del clan Laudani. Tra gli arrestati l'ex sindaco di Mascali, Susinni, l'ex presidente del Consiglio Monteforte e l'imprenditore Massimino. E' trascorsa a Catania la prima notte di presidi da parte del Movimento dei Forconi, oggi volantinaggio in Piazza Università. Dall'integrazione scolastica a quella lavorativa, disabile e collocamento obbligatorio negli enti pubblici scolastici. La denuncia dell'FLC CGL Catania. Il Comune di Catania presenta le iniziative per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo. CNA e le imprese. Catania che sostiene Catania. CNA Catania garantisce agli associati maggiore accesso al credito alle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese. Consulenza e orientamento gratuito per accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto per la gestione e gli investimenti. Anche a giovani, donne e a lavoratori stranieri che intendono avviare un'attività di impresa. Formazione qualificata in materia di sicurezza. Accesso alla professione di autotrasportatore. Apprendimento della lingua italiana. Cultura di impresa. Servizi per ottenere prestazioni assistenziali e previdenziali su pensioni, fortuni, malattie professionali. Recupero di periodi assicurativi maturati all'estero. CNA Catania, Piazza dei Martiri numero 8. E-mail infochiocciola cnhatania.it. Telefono 095 74 65 294. Ci sono anche l'ex sindaco di Mascali, Biagio Susin, e l'ex presidente del Consiglio Comunale, Filippo Monteforte, tra le dieci persone arrestate dai carabinieri di Catania per corruzione aggravata dal metodo mafioso, nell'ambito di un'inchiesta su rapporti tra ex amministratori, in manette anche Alfio Romeo del clan Laudani. Il provvedimento restrittivo scaturisce da un'indagine avviata nel gennaio 2011, che si è conclusa nell'estate del 2012, condotta dai carabinieri della Compagnia di Giarre. Nell'aprile 2013 il Consiglio Comunale di Mascali è stato sciolto per infiltrazione mafiosa, oggi commissariato. Le indagine hanno permesso di accertare l'esistenza di una sinergia criminale tra amministratori locali, imprenditori e tennei e referenti mafiosi del clan Laudani. In manette anche il costruttore 53enne Alfio Luciano Massimino. Già vi era stato, come ricorderete, lo scioglimento da parte del prefetto di Catania dell'amministrazione comunale a seguito delle infiltrazioni mafiose che erano già emerse in passato nelle indagini sull'Aimeria Ambiente, sulla gestione della raccolta dei rifiuti e dello smaltimento dei rifiuti. Sulla base di quel materiale che avevamo già raccolto e di quello che è emerso poi anche a seguito dello scioglimento dell'amministrazione comunale abbiamo potuto individuare questi altri elementi che finiscono di dare il quadro appunto di un'amministrazione a nostro parere fortemente condizionata. Le indagini denominate Town Hall, che significa municipio, sono state avviate in direzione di Alfio Romeo e proprio al suo monitoraggio e in particolare all'ascolto delle conversazioni che avvenivano all'interno del ristorante Liperus di Piedimonte e Tenneo al tempo di sua proprietà e sono emersi frequenti incontri con l'onorevole Susigni, nel corso dei quali al fine di favorire il Romeo e il clan mafioso di quella parte, nonché gli amici imprenditori di Mascali e Catania, venivano concordate variazioni al piano regolatore generale del comune, modificando le destinazioni di terreni da zona agricola a zona di espansione edificabile, così da permettere la costruzione di strutture ricettive e parchi residenziali. In cambio, il suo interessamento Susigni riceveva denaro contanto oppure altre utilità, quali ad esempio appartamenti. L'attività di indagini dei carabinieri ha messo in luce non solo gli episodi di corruzione relativa al rilascio delle concessioni edilizie e alla materia urbanistica, ma un vero e proprio modello gestionale dei due amministratori mascalesi, sistematicamente improntato all'illecito e al malaffare, finalizzato al tornaconto personale ad agevolare professionisti e imprenditori amici anche in altri campi. Quello che abbiamo individuato, si tratta di fatti particolari, specifici, che riguardano singoli fatti, non si può dire che l'intero piano regolatore fosse fatto per questo, si tratta di fatti specifici per i quali riteniamo di avere raggiunto la prova. Inoltre la rete di rapporti di Susini gli ha permesso di far credere a dei soggetti, anche loro indagati, di avere la possibilità dietro a pagamento di denaro, di intervenire per il tramite dei suoi complici presso la Corte di Castazione Università di Messina, al fine di pilotare alcune sentenze e favorire i studenti per il superamento dei test d'ingresso per la stessa facoltà di medicina e farmacia o di esami alla facoltà di giurisprudenza. Oppresso dalla crisi economica, un imprenditore della provincia ragusana si è dato fuoco questa mattina davanti alla sua azienda di lavorazione marmi, tramodica e pozzallo. Sul posto è intervenuto un elicottero del 118 che ha trasportato l'uomo in gravi condizioni nel centro Grandi Ustioni di Catania. Ad Adrano, un anziano di 80 anni, bracciante agricolo in pensione, lotta in ospedale tra la vita e la morte. La notte scorsa, infatti, l'uomo è stato violentamente aggredito, probabilmente a scopo di rapina, subendo diversi colpi di martello alla testa. Sul fatto indaga la polizia. Il governo Letta è impegnato in questi giorni nell'esaminare innanzitutto la legge di stabilità che è uno strumento fondamentale per la ripresa, quella che si aspetta economica del nostro paese. Migliaia di avendamenti presentati, cosa accadrà di questa legge di stabilità? È una legge che può veramente segnare il passo, farci fare un'inversione di tendenza per farci uscire da questo baratro? Può essere utile, non credo che sia l'unico elemento per rilanciare l'attività produttiva del nostro paese. Non c'è dubbio che nell'attività del Parlamento si sta presentando questa caratteristica, cioè i deputati presentano degli emendamenti che poi non hanno uno sbocco positivo. Io penso, presumo forse, che il governo dovrà mettere la fiducia e portare a termine una legge di stabilità che è un tassello, perché deve continuare l'azione del governo. Il governo ha fatto qualche legge che riguarda l'occupazione giovanile, poco, devo dire, però importante anche quella. Ha fatto una legge per la scuola e per la prima volta non ci sono stati tagli, però ancora il mondo della scuola attende di più, il mondo della ricerca. Credo quindi che la legge di stabilità possa essere un elemento, anche importante nell'attività di governo, ma che debba poi vedere un impegno successivo da parte del governo per rilanciare i vari settori produttivi. Forse il passo falso di questo governo è stata la scelta di aumentare di un punto percentuale l'IVA perché il gettito non è stato quello sperato, anzi si è avuto un calo ulteriore dei consumi che sicuramente non giova all'economia italiana. Abbiamo detto che il governo ha rallentato il passo, ha commesso anche qualche errore. C'è stata una fase di confusione politica, di ricatto politico, mi permetto di dire all'interno dell'allora maggioranza con la rottura, poi che si è determinata, col PDL che ha portato a delle incongruenze. Una di queste è anche quella relativa all'aumento dell'IVA. Però io credo che ancora il governo possa fare tanto, questo governo possa avere la capacità di rilanciare dal punto di vista economico, ci sono dei programmi importanti, tutto ciò si deve fare in sinergia con le regioni, con gli enti locali perché il nostro Paese possa riprendere il cammino del rilancio economico e sociale, che è il problema vero. Anche Renzi deve lavorare perché il Paese venga rilanciato, possa riprendere il cammino. Per noi è la cosa più importante. Il PD deve mettere a centro i temi del Paese. Ha avuto consenso, ha avuto ancora tanta gente che ha partecipato alle primarie e deve sentire maggiore senso di responsabilità per affrontare i veri problemi dei cittadini, che sono il problema del lavoro e della ripresa produttiva. Da ieri è cominciato il presidio del Movimento dei Forconi. È giusto ribadire un presidio tranquillo, senza violenza, così come purtroppo sta accadendo in altre parti d'Italia, ma un presidio che serve a informare la cittadinanza di quelle che sono le difficoltà che vive il vostro settore, ma in generale tutta l'Italia. Emblematico l'albero di Natale che avete messo qui in Piazza Università con le scritte Tares, Imo, Ici, Iucco, perché oggi si parla di Iucco ed ancora tutto quello che di sbagliato fa la politica che non pensa al bene dei cittadini. Allora, questo presidio, che è stato l'unico concesso dalle autorità, dal prefetto, perché ne tenete presente che molte volte sta passando un segnale che la Sicilia non sta rispondendo alla protesta. Non è così. La protesta non sta partendo soltanto perché la protesta è stata blindata. Ci è stato vietato di manifestare. È passato anche un messaggio molto negativo della protesta che se volevamo fare i blocchi, non volevamo bloccare proprio nessuno, avremmo chiesto sicuramente a chi volesse di fermarsi e partecipare alla protesta. Non ci è stato permesso. Sono partite notizie di false, che c'erano i mafiosi, che c'erano gli ultra, che c'erano tutte queste cose e quante. E non è stato così. Lo stiamo dimostrando a Piazza Università, dove stiamo chiedendo a tutte le persone di partecipare, di essere unite. Per non fermarci domani, definitivamente lo chiedo agli artigiani, lo chiedo ai commercianti, lo chiediamo a tutti quanti. Hanno realizzato un albero di Natale, che è questo il Natale che passeremo, all'insegna di tassi, all'insegna della disperazione, all'insegna di che cosa? Di un futuro che è molto nero per noi e per i nostri figli. Stiamo chiedendo questo, ridarci serenità e dignità alle nostre famiglie. Voi vi fermerete, come avete fatto stanotte, anche nelle prossime notti, proprio per far capire che da qui non vi sposterete finché ci sarà comunque un minimo di partecipazione? Allora, finché avremo la forza, finché la gente ci starà vicino, anche se è così saltoriamente per informarsi, però sentiamo l'affetto della gente che ci dice siamo con voi, noi resteremo qui. Potrebbe anche essere che passeremo anche il Natale qui e lo passerò con quelle persone che sicuramente non hanno una serenità. Faremo forse un albero di Natale all'insegna di un futuro migliore, ma la protesta continua in forma democratica e civile. Mi dispiace per gli atti che ci sono stati violenti nelle altre città d'Italia che condanniamo, purtroppo la violenza è figlia di questa società che ci sta portando all'esasperazione. E' gente ultra che fa violenza negli Stati e ce la ritroviamo anche nelle manifestazioni pacifiche. Non è colpa nostra. E un'altra cosa che mi inorgoglisce è che i poliziotti a Genova hanno fatto il più bel simbolo, il più bel gesto forse di tutta la vicenda. Si sono tolti i caschi e sono scesi accanto dai manifestanti. Questo significa che il regime è veramente alla frutta. Ogni 15 impiegati deve essere assunto una persona con disabilità. Lo prevede la legge che sanziona le ditte private con una multa di 50 euro al giorno, qualora non si attemperi. Il settore pubblico non viene sanzionato e questo ha portato al totale disinteresse verso questa legge e di conseguenza al totale disinteresse verso una fetta della popolazione che meriterebbe sicuramente più attenzione. Per questo motivo l'FCCGL insieme all'Ufficio Politica e Disabilità del Sindacato ha deciso di puntare l'accento su questa grave anomalia. A Catania resta una scopertura di 19 persone che dovrebbero essere assunte nel solo settore della conoscenza, ma il numero complessivo delle unità mancanti nel pubblico impiego rilevato nell'anno 2012 è di 291, il 13% in più rispetto all'anno precedente. Noi abbiamo fatto di tutto negli anni per accompagnare questi ragazzini disabili e integrarli, non inserirli, che è un termine un po' diverso, integrarli, cioè dargli uguali opportunità, perché è chiaro che l'equità non è dare a tutti allo stesso modo, è dare a tutti quello che serve e questo è quello che serviva nella scuola. Abbiamo lottato per avere il sostegno, abbiamo lottato per avere il rapporto giusto per il sostegno, abbiamo lottato perché ci fosse una continuità nel sostegno e abbiamo ottenuto adesso che ci siano delle emissioni in ruolo per tutti i posti vacanti, infatti con le nostre battaglie, abbiamo ottenuto che non ci siano barriere architettoniche nelle scuole, abbiamo insomma lavorato perché questa parte debole non fosse poi più tanto debole, avesse le stesse opportunità degli altri e naturalmente questo non può succedere che appena si finisce l'arco della formazione che poi dovrebbe durare per tutta la vita come per tutti gli altri e si lasci il tutto a metà, si lasci in mezzo alla strada poi nel momento in cui invece esiste una legge, una normativa ed esistono dei posti vacanti, dei posti vuoti che potrebbero essere occupati in un periodo così grave come questo, di precarietà, di manganza di lavoro, di situazioni che lasciano veramente la gente per strada. Perché quindi nonostante gli obblighi di legge privato e pubblico, di più il pubblico che dovrebbe dare l'esempio ai cittadini, non applica appunto quanto previsto la normativa? Stiamo facendo oggi una battaglia di civiltà, di legalità e di inclusione sociale e abbiamo pensato che qual è il miglior luogo se non l'università, la formazione che per natura è inclusione, per natura è civiltà e per natura è legalità. Per cui riteniamo che questa battaglia è l'inizio di una campagna che la CGL farà nei prossimi mesi mettendo al centro della sua azione politica sindacale i temi legati alla disabilità. Una proposta di legge ed iniziativa popolare per evitare il diffondersi del gioco d'azzardo e per salvaguardare le fasce di popolazione che ne sono vittime. Questa è una delle proposte avanzate dal Comune di Catania per contrastare il dilagante fenomeno appunto del gioco d'azzardo. Per questo motivo il sindaco Ettenneo ha anche chiesto a Lanci di farsi portavoce di una proposta che potrebbe prevedere, per quanto riguarda il saldo IMU sulla prima casa di gennaio, di prendere i soldi sull'imposta del gioco d'azzardo, anziché far pagare ai cittadini la differenza per la maggiorazione delle aliquote. Il Comune inoltre ha organizzato con l'ASPO, con il provveditorato agli studi e con le municipalità, una settimana di full immersion che prevede incontri pluridisciplinari di sensibilizzazione e la proiezione di un film. Un derby particolarmente sentito quello che si è disputato domenica a Mineo. In campo la squadra locale contro l'ASD Cara di Mineo, l'associazione sportiva entrata fa parte quest'anno del campionato di terza categoria locale per volere della Federazione Italiana Calcio. La partita è finita 6-2 per i calciatori del Mineo, ma l'importante è stato il clima con cui è stata affrontata questa partita, iniziata con un minuto di raccoglimento e ricordo di Nelson Mandela, sugli spalti parecchi tifosi, tra cui anche bambini e famiglie dei rifugiati, e l'incursione finale in campo di Babbo Natale. Vedere giocare i ragazzi del Cara e i ragazzi di Mineo mi entusiasma in maniera particolare, perché io in fondo li rappresento entrambi, sia nella qualità di sindaco del Comune di Mineo, sia nella qualità di presidente del consorzio Calatino Terra d'Accoglienza. E quale miglior modo, se non lo sport, possa essere il motivo di forte integrazione? Ed oggi veramente possiamo dire che è una vittoria, noi abbiamo già vinto, abbiamo vinto contro l'indifferenza, contro ogni forma di razzismo, e a vincere è veramente l'integrazione. Le attività di integrazione sono un punto di eccellenza all'attività che svolgiamo all'interno della struttura, e in questo siamo supportati certamente al meglio dal Consorzio dei Comuni, e in maniera particolare dal Comune di Mineo con il suo sindaco Anna Loise. Continuano a crearsi delle opportunità, delle occasioni che mettono in connessione il sentimento di speranza degli ospiti e l'esperienza di umana solidarietà della popolazione locale. È un'esperienza molto positiva per i ragazzi e per tutto quello che è l'ambiente menenino. Ovviamente dico quale migliore modo per fare integrazione. Basti pensare che ho visto altre partite dei ragazzi che hanno giocato in casa, vedo la felicità nei loro occhi, vedo che veramente danno il massimo, quindi vogliono qualcosa della vita. E quindi dico che anche il gioco è forma di integrazione. A maggior ragione lo sport, perché lo sport è fatto integrazione in tutto il mondo, partendo dai mondiali e da tutte quelle che sono state le attività sportive fatte dal CONI. Quindi noi siamo onorati di ospitare in questo campo i residenti del CARA e siamo anche contenti di aver firmato il protocollo d'intesa che insieme all'amministrazione abbiamo deciso di firmare. Quindi siamo veramente molto contenti. Siamo contenti di aver messo qualcosa oltre all'integrazione diciamo al di fuori del campo, del centro d'accoglienza che è il CARA di Mineo. Loro non sentono la rivalità con nessuno, hanno voglia di divertirsi. Incontriamo i soliti ambienti che ancora risultano un po' chiusi all'integrazione, ma passo dopo passo cercheremo di aprirci a loro. Grazie a tutti.